Ciao ragazzi qui è CryptoVault, oggi voglio parlarvi di Buffer Finance, un progetto davvero molto interessante che può farvi guadagnare 100 volte quello che investite. Inoltre tramite lo staking vi permetterà di guadagnare il 50% annuo. Con questo video ti illustrerò come funziona Buffer Finance, come puoi guadagnare anche tu il 50% sul tuo investimento, ma soprattutto a non perdere l'occasione di acquistare un token che potrebbe farti guadagnare tantissimo. Buffer Finance è una D-App, ovvero un'applicazione decentralizzata che permette alle persone di poter fare trading sulle opzioni di vendita o di acquisto. Per essere più specifici funziona come PancakeSwap, ovvero è un automated market maker e vi permette di acquistare o vendere in questo caso opzioni senza dover aspettare la controparte. Perché ha al suo interno una liquidity pool che vi permette di acquistare o vendere senza dover aspettare. Andiamo a vedere il sito, è davvero ben fatto e la prima cosa che salta all'occhio è che qui ci dà tutti i dati su il prezzo del token Buffer Finance, quante persone lo hanno nel loro wallet in questo momento, quindi quanti holders ci sono, il volume di transazione nell'ultime 24 ore e il totale di market cap. In questo caso vediamo che è solo 383.000, quindi il potenziale di crescita è davvero alto. Se scrolliamo notiamo subito una cosa, qui c'è illuminato Binance Smart Chain perché questo progetto Buffer Finance è sulla rete di Binance ma in futuro si svilupperà anche su Polygon, su Cardano e su Avalanche. Una cosa molto importante che ci fa notare qui è che non c'è bisogno di KIC, vi permetterà di acquistare e vendere opzioni senza dover verificare la vostra identità. Se scendiamo vediamo che Buffer Finance ha tre prodotti, al momento ne sono disponibili solo due, il terzo come vediamo qui l'insurance, quindi l'assicurazione, è ancora in sviluppo. Dei prodotti disponibili abbiamo le opzioni, quindi la possibilità di acquistare o vendere opzioni di vendita o di acquisto su BNB, in questo momento in futuro svilupperanno anche BTC, quindi Bitcoin, Ethereum e molti altri token. Inoltre nelle opzioni potremmo decidere la expiration date, quindi la data di scadenza delle opzioni. Il secondo prodotto è il prediction game, ovvero la possibilità di poter scommettere se il prezzo del BNB salirà o scenderà. Scendendo vediamo che ci parla della gamification, quindi che la possibilità di comprare o vendere opzioni o il prediction game sembra un gioco, quindi permette alle persone che non sono esperte di poter partecipare. Infatti ci dice qui che non ci sono gerghi finanziari e che in futuro creeranno anche degli NFT. Scendiamo e vediamo che qui ci parla proprio del trading di opzioni e di poter diventare dei liquidity provider, quindi di poter dare noi la liquidità e ricevere una percentuale annua sul nostro investimento. Ed infine il token IBFR, quindi l'iBufferToken, il token di questa piattaforma, ci permette di fare due cose. La governance, quindi di poter decidere anche noi dello sviluppo dei progetti e di poter prendere parte al futuro di Buffer Finance. E in secondo luogo, una cosa molto più importante, di poter ricevere dei soldi indietro mettendole staking, quindi di poter ricevere una rendita passiva. Scendendo ci spiega l'use case, quindi se siamo speculatori, trader, ci parla anche dell'insurance, quindi dell'assicurazione, il terzo prodotto che sta sviluppando. Qui vediamo tutti i collaboratori, quindi abbiamo CryptoBuddy, Lidium, BSC News, BSC Daily, Berry e SuperLaunch, che è una piattaforma di launchpad dove io ho comprato il token. Più sotto la roadmap e andiamo a vedere che il progetto, quindi l'idea con la ricerca di marketing, è iniziata quest'anno. Il progetto non è stato sviluppato da tanto tempo, anzi il MyNet, quindi l'applicazione in sé per sé, è stata rilasciata solo pochi giorni fa e siamo qui nel Q3. Vediamo cosa ci aspetta all'ultimo quadrimestre del 2021, vediamo che c'è un buy book e un burn, quindi compreranno dei token e li bruceranno per dargli più valore, ci sarà la governance, finalmente verrà rilasciata, così che potremo decidere anche noi che abbiamo il loro token in staking o lo teniamo nel nostro wallet e vediamo che usciranno anche altri token, Ethereum e Bitcoin, così da poter comprare e vendere azioni anche su questi ultimi due. E vediamo che c'è anche l'espansione su Polygon e Avalanche, nel momento in cui Buffer Finance si espanderà su altri ecosistemi, implementerà altri token, avrà una crescita esponenziale e non finisce qui. Andiamo a vedere invece che nel primo quadrimestre del 2022 verranno rilasciati altri token, immagino ci si espanderà anche su futuri ecosistemi. E una cosa che davvero ci interessa è vedere Buffer Finance listato su Binance, listato su KuCoin, perché nel momento in cui arriverà questo CAX, quindi Central Exchange Listing, il prezzo schizzerà alle stelle, perché molte più persone avranno la possibilità di comprarlo. Ora lanciamo l'applicazione e andiamo a vedere com'è. Questo è il primo pannello che vediamo. Vediamo che c'è il Prediction Game, la possibilità di scommettere da qui a un giorno, tre giorni, una settimana, se il prezzo del BNB salirà o scenderà. Quanto è la nostra puntata, quindi quanto mettiamo di BNB, quanto vogliamo scommettere. E il Payout, quanto andremo a guadagnare in base alla fluttuazione del prezzo del BNB. Poi abbiamo le opzioni, sono le classiche put and call, qui possiamo vedere che sono disponibili al massimo da poter utilizzare per le opzioni 161 BNB. Possiamo decidere il prezzo, il periodo, ovvero la durata delle opzioni e qui ci dà già subito quanto ci va a costare e il break even. Anche qui c'è il Payout Calculator che vi farà vedere quanto sarà il vostro ROI, quanto sarà il ritorno sull'investimento che farete. Ma come possiamo guadagnare su Buffer Finance? Abbiamo tre modi. Il primo è il Prediction Game, quindi scommettendo il prezzo del BNB. Il secondo sono le opzioni di vendita o di acquisto. Ma se non siamo tecnici nell'analisi dei grafici, la cosa più sicura che possiamo fare su questa piattaforma è dare liquidità. Dando liquidità riceveremo in cambio una percentuale annua sul nostro investimento. Possiamo farlo in due modi. Il primo è qui. Depositando i nostri BNB per un periodo di almeno due settimane riceveremo in cambio degli RBFR. A differenza degli IBFR, gli RBFR sono i Reward Buffer. Reward Buffer possiamo andarli a mettere qui in Staking e vedremo che la percentuale annua è il 50%. Questa percentuale ha delle fluttuazioni. Ovviamente nel tempo non sarà sempre il 50%, potrà scendere o salire in base a quanto hanno investito le persone. L'RBFR, quindi il token Reward Buffer, messo qui in Staking, ci darà in cambio l'IBFR, quindi il token della piattaforma. Questo Reward Buffer potremmo scambiarlo dopo due settimane, quando vogliamo, con il token con i nostri BNB. Ovvio che si può correre il rischio nell'impermanent loss, come le pool di PancakeSwap. Vediamo che qui possiamo fare un ciclo, quindi mettere i nostri BNB, ricevere gli RBFR e rimettere in Staking gli IBFR che ci danno in cambio i BNB. Se non vogliamo fare tutto questo giro possiamo comprare direttamente gli iBuffer, i token della piattaforma, metterli qui in Staking e riceveremo in cambio una percentuale annua di BNB. Oppure viceversa, se abbiamo tanti BNB e pensiamo che il prezzo del BNB salirà, possiamo bloccarli qui per due settimane e ricevere in cambio il 50% annuo. Nel concreto, come possiamo fare? Allora, per prima cosa, se vogliamo prendere parte ai BNB, andremo a comprare dei Buffer Token. Quindi andiamo qui sopra dove c'è scritto BUY IBFR. Ci aprirà PancakeSwap. Qui da PancakeSwap potremmo scambiare i nostri BNB per questo token. Una volta fatto qui lo swap, scambiati i nostri token, basterà tornare sulla piattaforma e andarli a mettere in Staking. Cliccando qui Staking e decidendo quanti token mettere. Questi sono i modi con cui guadagnare grazie a Buffer Finance. Se andiamo a vedere qui al lato, le cose che non vi ho fatto vedere sono le Option Holding. Quindi quante opzioni abbiamo in questo momento. Nel momento in cui acquistiamo, prendiamo delle opzioni, le abbiamo qui. Con la History, quindi ci dà tutto un resoconto dei nostri ultimi trade. Abbiamo la sezione Referral e quindi potete creare il vostro Referral Link e andrete a guadagnare un 12% su delle percentuali di fee che hanno gli utenti. Che utilizzano il Prediction Game o le Option, quindi le opzioni. Detto ciò, mi raccomando, fate le vostre ricerche. Leggetevi la documentazione prima di investire in questo token. Tutto ciò che ho detto non sono consigli finanziari. Che il market cap è molto basso, le potenzialità di crescita sono molte. Il mercato è grandissimo. Mi raccomando, fate le vostre ricerche prima di investire. Leggete la documentazione e decidete voi. Detto ciò, vi ringrazio ragazzi per la vostra attenzione. Vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella. Pubblicherò altri video, soprattutto sul DeFi, quindi su altri progetti come questo, oppure sul Play to Earn, che vedo che qui in Italia non è ancora stato conosciuto. Detto ciò, vi auguro buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.